ciao ragazzi e bentornati sul mio canale io sono il lanciere e come potete vedere ritorniamo sulla raccolta tops match attacks stagione 2022 2023 perché mi è arrivato il pacchetto numero uno degli aggiornamenti l'update pack numero uno eccolo qui all'interno ben 17 carte di cui 16 carte new singing e io le ho viste sono davvero molto belle e una limited edition update andremo a vedere subito c'è la limited edition di Lewandowski prima di partire con l'unboxing però vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video le novità che andrò a pubblicare sul canale e soprattutto schiacciate un bel like al video detto questo per prima cosa mi andrei ad aprire questo pacchetto che per adesso è uscito soltanto sul sito tops inglese siamo pronti e andiamoci a vedere subito queste carte allora si si parte con il codice che non ci interessa e allora ovviamente delict che è passato al bayern dalla juventus qua c'è la carta che vogliamo vedere tanto e la mettiamo alla fine pogba dal manchester alla juve abbiamo culibali dal napoli al celsi ciò ameni che è arrivato a madrid abbiamo la carta di sadio mané altro arrivo engel di maria dal paris saint germain alla juventus raheem sterling al celsi sono veramente veramente molto belle con de al barcellona lukaku che è tornato in maianera azzurra abbiamo calvin bassi dell'ajax poi richarlison al tottenham dall'averton rafigna che è arrivato a barcellona altra carta della juve è bremer dal torino non si è spostato da torino bergwin stephen bergwin altra carta ajax gabriel jesus che dal manchester è andato a londra sponda arsenal e ultima carta grandissima doppietta abbiamo robert lewandowski new singing ed eccolo qui robert lewandowski new singing limited edition è la numero uno sicuramente ne arriveranno delle altre le aspettiamo con ansia intanto la mettiamo qui la nostra limited edition e a questo punto terminerei il video andandoci a spacchettare i tre pacchetti che mi sono arrivati insieme a queste carte no pensavo di aver visto qualcosa di interessante allora subito la crystal allo stemma del real madrid abbiamo il men of the match di jack grilish non so da dove girare le carte allora abbiamo carte base poi abbiamo la warrior di jose maria chimenez e marco perratti enforcer poi secondo pacchetto allora anche qui le ho aperte tutte al contrario abbiamo carte base 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 un codice poi passiamo alle carte speciali abbiamo lo stupper di ederson rafael varan warrior poi abbiamo la man of the match di oiar sabal e lautaro martinez e ritagio ultimo pacchettino per questo video dobbiamo aprirle di qui e abbiamo edson alvarez magnana silva tutte carte base spinazzola andiamo avanti niente di interessante jonathan ta modric styler harry kane match winner poi abbiamo la 100 club di joao canselo e next gen noni ma due che del psv di eindhoven ragazzi termina qua lo spacchettamento del pack di aggiornamento numero uno la carta più interessante eccola qui la new singing limited edition di robert levandoski con la maglia del barcellona in attesa dei prossimi pack non so cosa aspettarmi speriamo che ci sia anche qualche carta delle squadre che in questo momento si stanno comportando bene in champions league io ovviamente mi rivolgo anche alle carte del napoli che sono assenti sia in questa collezione che nella collezione di figurine sempre della tops champions league a questo punto prima di salutarvi come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non lo avete fatto attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video le novità che andrò a pubblicare sul canale e soprattutto schiacciate un bel like al video detto questo con la carta di roberto nelevandoski io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao